In una ruota si ormai la tengo l'hanno già redimata Quanto vuole che la tengo Conto è quotato che mi parta il totem lì davanti in 10, 9, 8, 7 No Ok iniziamo il tp fiesta Vorrei prendere un hit se riuscissi Meg ha preso la cassetta quale vorrei sapere Oh La devi portare qua mi stai dicendo Miki grazie del follow benvenuto a serpentelli Spero che ti troverai bene qui con noi Ottimo Buon pomeriggio come stai Buonasera per caso Ciao stril bentornato come stai Allora Questo mi sembra di portare a questa cassetta qua Appena abbiamo la possibilità di tipparci ricominciamo a tipparci comunque E' partito il totem che è mortale Dovrebbe essere Codetto quasi staccato al massimo comunque Resta lì Insieme a Visconti No dai riuscita a metterla giù non ci voglio credere Che schifo odio sto gioco Vabbè lo appendiamo Stacchiamo gli le Le tre stack Ciao matto buongiorno a te come stai Anche crudetta è staccata E' andata lì forse la sua Il suo totem La sua cassetta è questa ma comunque non è più ferita Allora l'ha consegnata non era quella Devo cercare di evitare qualcuno per riprendere il perk del Out Ragazzi si chiama Il totem del Del cavaliere Sempre da usare la piaga Finalmente dai Fammi sapere come va poi Se vuoi un tutorial su youtube C'è quello mio Di Dele tech Non vorrei riuscire ad arrivare al lit Anche se Nice Ok Devo di nuovo qui tp Adesso riusciamo a restaccare E' probabilmente mi stanno facendo quel totem adesso In style Non riesco a staccare la condanna Troppo grande Sto ma probabilmente Che è il problema un po' delle mappe grandi E invece siamo riusciti Let's go Non riesco a fare il memino però Mag ho visto che ha preso quella lì Mi hanno tolto rovina Quella è mag vero? Si Tempo di commentare su mag allora Partiti tutti i totem Perfetto Architect of the Hunt Abbiamo solo quello forse del Del knight Ancora disponibile Buon piccolo fake Nice hit Al pelo proprio Snatch quando ci scaraventiamo su el divers oggi? Ma Allora vediamo Perché comunque dopo la live Vedo quanto sono Quanto sono sveglio Jerry Perché comunque Devo mangiare Stavo pensando in realtà Di portarlo anche direttamente in live Magari se vuoi possiamo giocarci un pochettino Se la ciotta ha voglia di guardarlo Devo commentare su sto chase Perché tanto è condannabile No Hai riuscito a portarlo Porco tu Vorrei dire che sia usato di meno Penso il demo E' un peccato solo che è riuscito a consegnare la cassetta all'ultimo Questo è il peccato più grande Perché gli da tanto spazio Se l'avessi ucciso automaticamente lì sarebbe stato buono Siamo a ritiparci Vediamo se gli diciamo a passarla con danno su qualcuno The dark Ma non ci voglio credere Devo per forza mollarlo Tra l'altro anche se è condannabile Bubba introdente in passing gun and during Do una scelta non quelli che danno velocità con la moto segan Va bene Eh ma sto game ormai Non riusciamo a recuperarlo Siamo senza Senza perco Vabbè ma proviamo Ok Magari non ho oggi Però Io ho preso un po' questo killer e devo dire che mi sto trovando parecchio bene a giocarla L'hanno buffata tra l'altro di recente E' molto più forte di prima Le hanno dato questo potere Di potersi di paragrafica Adesso che è molto meglio Questa è Samara Noi si riusciamo a tagliare la strada di Ace Più o meno Ci arrivi davvero Dobbiamo fare questo giro da di qua per forza Buon fasta Stiamo facendo il gen sopra tra l'altro Se mi si riattiva di là la La cosa la ci vado ma Senza non posso Ok Dai riaccendi TTV Non si è accendato la tipola sopra Sfortunatamente Ok Quello che Ci farà finire il gen Doppio adrenalina Chiaramente Ti pare che non abbia un'adrenalina Ok Sono riuscito a hittarla Non sarà andato al save vero Sarà andata per la porta Questa però è ancora qua Vediamo la tempo per il save Nice Sono riuscito a hittarla E l'altra è condannabile Perfetto Devo sottolineare la mag Che non so dove vuole andare Per la Eh l'ho già consegnata Non so neanche dove Prendiamoci la 3k Dai Prendiamoci la 3k 3k comunque non è male Potrei slaggare actually La porta è chiusa davvero qua La porta è chiusa qua Nice 4k Let's go Tipo il Nemesis Ma ci sarà il Nemesis Sadako nuova main È forte Sadako È molto forte attualmente Dai non strisciare verso dove Non ti posso appendere Perché se no ti devo slaggare per 4 minuti Mamma mia che odio la gente Che striscia verso gli uncini rotti Negli angolini Solo per costringerti a slaggarli poi Perché è quello che fai Se fossi andato in quell'angolo Avrei dovuto slaggare Ti ho riuscito a recuperare anche qua Peccato che volevo Questo Questo jam qua Comunque Quella tv lì non è molto forte Sfortunatamente È abbastanza inutile È buono solo per staccare la condanna Devi spammare il teletrasporto il più possibile Questo killer funziona letteralmente così Più spammi il teletrasporto Più gli dai Stack di condanna E quindi più Diventano Hanno pressione Nia through the match Tu hai partito di insta yell Con l'argilla Dai Se non fai il 3 hard Adesso Grazie Grazie Grazie